Lorenzo Burzigotti è arrivato un pareggio importante da questo punto e da questa rimonta che dovete ripartire. Sì, era importante anche oggi fare un passo avanti come è stato sabato scorso. Chiaramente diciamo che inizialmente eravamo in vantaggio quindi pensavamo subito ai tre punti. Poi chiaramente si è ribaltata questa partita ma secondo me la squadra ha dimostrato grande carattere nel comunque riprendersi questo punto che era un punto comunque importante con una squadra che come sappiamo anche in classifica mi sta molto bene, stanno facendo bene. E nel secondo tempo è arrivata la sostituzione per qualche motivo particolare oppure semplice sostituzione di gioco? No, penso che comunque mi sta messo alle energie diciamo più fresche quindi c'è stato un cambio, una sostituzione normale di gioco. E questa partita per il proseguio del campionato che sensazioni vi dà, che fiducia vi dà? Ma è sempre una reazione, una reazione importante perché quando si prende due schiaffi così diciamo come è successo nel secondo tempo magari su quello che è successo a Mestre la squadra ci ha approvato però non c'era quella convinzione di riprendere mentre oggi comunque sì invece c'è stata questa mossa decisa di riprendere almeno il pareggio a questo punto ripeto contro una squadra forte. Grazie mille.